Buongiorno Benvenuta Ciao Ha ragione Pascal Tu non sei il tipo della civetta Anche se sei vestita così Sei magra, mi piacciono le magre Seno piccolo, da bambino Mi fai venire certi pensieri Adesso ti dico che cosa mi passa per la testa Ah, non sei curiosa? Sono molto curiosa Tu devi aver cominciato molto molto piccola Sbaglio? Io ho occhio Da cosa l'hai capito? Da una piccola piega amara, qui Sul lato della bocca Come una che ha vissuto È così? Quando è stata la prima volta? Tredici anni? Undici E con chi? Il parroco del paese Poi mi racconti tutto, eh Con tutti i particolari No Tu mi sputti, eh Cos'è? È il tuo sistema per eccitare? Ce l'hai il fidanzato? Mai avuto? Una volta È andata male Sì Riesco a capire Scommetto che pensi che sia andata male sessualmente È quasi sempre così Ci sono ragazze giovani, sane Che non provano niente A volte vogliono godere, ma non ci riescono Altre volte non vogliono godere Di che è più brava La primavera tarda quest'anno Sei proprio curiosa Sei diversa Mi piace Adesso ti faccio vedere una bella sorpresa Ah sì? Sì, di sopra Una bella sorpresa E cioè? Vedrai, vieni Dammi da bere prima Ah, prima Ti voglio confessare una cosa Oggi è giovedì E giovedì è il mio giorno fortunato Perché hai fatto uccidere qualcuno di giovedì? Ma allora tu Perché? Bisogna farlo Chiamare il pronto soccorso Là, là c'è il numero Richiama l'ambulanza Chiamare qualcuno Mi aspetti Ti do 100 milioni Subito Ti do di più Ti do di più Ti do tutto quello che vuoi Basta che Chiamare il pronto soccorso 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 Grazie.